Ciao a tutti ragazzi, vi è venuto in questo nuovo video, se non potessi oggi faremo un video dove giocheremo con perla, cioè insegneremo tre comandi che lei veramente, lei fa già però, cioè, sto portando sempre avanti, almeno se le ricorda sempre, e mi sa che ha già capito ragazzi che c'ho tre biscotti qua, guardate, tre peignetti, tre peignetti, che io ne metto qua. Dove lei non ci può arrivare, vedete ragazzi, allora, perla, quanto il tuo muso che fa ridere in questo momento, cosa fai, ma cosa fai, cane, e iniziamo dal comando seduta, il basilare, cioè quello che hai detto i cani dovrebbero saperlo, perla, perla, ferma, seduta, seduta, bra, no, seduta, ferma, ferma. No, no, seduta, scusate, seduta, perla, seduta, ferma, brava, mi stavo anche dando la zampo, ma che cuccia, come ho già detto ragazzi che questi comandi lei lo sa, lo sa già però, le sa già però io sto questionando un piccolo allenamento, sai, sapete ragazzi, che è sempre meglio comunque, seduta, 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 ferma, zampa, no, non, non, non salvare addosso ragazzi, per favore, seduta, zampa, brava, no, no, eh no, brava, un cornetto, un corno di gelato ragazzi, seduta, seduta, zampa, brava, ottimo, brava, cucciolotto, piccolino, adesso facciamo l'ultimo, il buono comando, però ti devi abbassare, abbassati, 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 quello più difficile per lei, ferma, sarebbe, che lei ci è stato difficilissimo, cioè, probabilmente questo comando non l'abbiamo tanto fatto bene, perché lei non è capace di stare ferma, neanche un secondo, no, scusate, non ferma, a terra, veramente prima, seduta, seduta, ferma, a terra, brava, guardate ragazzi che brava, bravissima, finito, brava, brava, bravissima, molto brava Perla, e adesso ti meriti, ti meriti tante coccole, ti meriti tante, tante coccole, aspettatine, però, per favore, magari, assaltami addosso, che sono seduta per terra, magari no, Perla, scusa, due coccoline, ce le facciamo fare? Ragazzi, io e Perla, vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video, Perla, ricordami ai nostri iscritti, o quelli che stanno vedendo il nostro, in questo video, se, scusate ragazzi per l'inquadratura, perché c'è Perla che mi morde le mani, scusate, aspetta che si sta grattando, Perla, che cosa ricordi a quelli che stanno vedendo questo video? Ti scrivi sul canale di Patrizia e ti vuole la campanella a lei, e lasciare like, ragazzi, ovviamente, voci fatte da me, perché i cani non parlano, lei però, parla, baga, ringhia, non so cosa fa, ancora, non ho ancora capito, seduta, se veramente l'ho capito, ma stavo scherzando, seduta, seduta, allora ragazzi, sapete che Perla, adesso vi volevo dire una curiosità di Perla, però, se si siede una volta, seduta, Perla seduta, brava, vedete, mi stava dando la zampa, vedete questo peletto qua, sotto, lo vedete ragazzi, per tenere che devo, questo qua, lei non è tutta nera, è tutta beige, lei c'ha anche il bianco, un pelettino, lei è piccola, ce l'abbiamo ancora più piccola, ragazzi, comunque è piccola ancora, però, scusa Perla, basta le carmi, grazie, mi sta dando i bacini, in faccia, perla, giù, seduta, meglio chiudere il video prima che lei mi distrugge la casa, quindi ragazzi, io e Perla vi salutiamo, ciao!